Tagliatelle alle noci e radicchio di Treviso Le tagliatelle alle noci e radicchio di Treviso sono un primo piatto ricco di sapori diversi, che si sposano alla perfezione tra loro. Il sapore dolce delle noci si abbina all'amaro del radicchio di Treviso, il tutto condito con una sfiziosa salsa di pecorino e pomodori secchi. Un piatto unico che può sostituire anche un secondo, una volta servito con abbondanti crostini di pane. Una ricetta veloce e semplice da preparare che si può preparare in anticipo e conservare in frigorifero. Perfetto per una cena informale tra amici o una cena romantica a lume di candela. Gli ingredienti che servono per preparare le tagliatelle alle noci e radicchio di Treviso sono 400 g di tagliatelle, 150 g di noci, 400 g di radicchio di Treviso, 100 g di pecorino, 50 g di pomodori secchi, 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe e prezzemolo QB. Per preparare le tagliatelle alle noci e radicchio di Treviso, procedi nel seguente modo. In una ciotola unisci il pecorino grattugiato, i pomodori secchi e una manciata di prezzemolo tritato. Mescola bene il tutto e regola di sale e pepe. Prendi le noci e tritale finemente con un mixer. In una padella capiente, scalda 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva e aggiungi le noci tritate. Cuoci per qualche minuto a fiamma media, fino a quando le noci non risulteranno ben dorate. Lava il radicchio di Treviso e taglialo a striscioline sottili. Aggiungi il radicchio in padella con le noci e salta per qualche minuto. Cuoci le tagliatelle in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. Una volta cotte, scola e versale nella padella con le noci e il radicchio. Aggiungi la salsa di pecorino e mescola bene. Servi le tagliatelle alle noci e radicchio di Treviso ben calde e guarnite con una spolverata di prezzemolo tritato. Aggiungi la salsa di treviso ben calde e guarnite con le noci e salta per il tempo. Aggiungi la salsa di Treviso ben calde e guarnite con le noci e di guarnite con il tempo. Grazie a tutti